Andrevo avanti sicuramente, Ferino, al... Siamo al quattordicesimo incontro della rubrica Libri e pensieri, presentazioni e riflessioni. Questa rubrica è collegata a festa di scienza e di filosofia, virtù tecnoscienza, e anzi proprio in questo periodo nel quale non è stato possibile realizzare la decima edizione, di fatto la sostituisce nel rapporto con le tante persone che seguono festa di scienza e di filosofia, ma soprattutto sono appassionate del dibattito scientifico e filosofico. Questa sera presentiamo il libro La matematica del virus, i numeri per capire e sconfiggere la pandemia, edito da Castelvecchi. A scrivere questo libro sono stati il professor Roberto Battistò, che tutti conoscono, fisico di fama internazionale, oggi professore di fisica sperimentale presso l'Università degli Studi di Trento, voglio ricordare, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e per quel poco che rappresenta festa di scienza e di filosofia, uno degli autorevoli referenti scientifici della festa stessa. Questo libro è stato scritto, dicevo, insieme a Pietro Battistò, un giovane ricercatore presso l'Università degli Studi di Parma. Sarà presentato dal professor Battistò stesso, di cui ho detto, insieme al professor Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina presso la Sapienza Università di Roma, e direttore dell'area Scienze Umane del CNR, due personalità, anche il professor Corbellini è molto legato a festa di scienza e di filosofia, e questo ci inorgoglisce, avere cioè questa sera due personalità di questo livello, a cui festa di scienza e di filosofia deve molto, che presentano un libro, come si comprende immediatamente, è del tutto attuale, anzi il contenuto e la presentazione del libro ci aiuteranno meglio a capire l'andamento di questa pandemia che ci affligge continuamente. Buona visione e buon ascolto a tutti. Grazie per Luigi, grazie a Gilberto, è un grande piacere essere qui con voi questa sera. Inizierei dandovi qualche aggiornamento sui numeri della pandemia e per farvi capire alcuni aspetti che poi sicuramente torneranno di interesse nella discussione del libro, che faremo fra qualche minuto. Adesso faccio la condivisione del mio schermo e vi inizio a presentare qualche dato aggiornato. Io mi immagino che adesso lo schermo sia visibile a tutti, vero Regia? Sperda. Che è condiviso, perfetto. Allora, cosa mostra questa tabella? Sono una ventina di giorni e tre variabili fra le tante che vengono fornite quotidianamente, in particolare la variazione totale di coloro che sono positivi, il numero di nuovi positivi, perché la variazione totale deve essere fatta prendendo i nuovi positivi, togliendogli i guariti e togliendoli i deceduti, quindi sono due variabili diverse, e nella terza colonna c'è la somma complessiva dei dimessi guariti dall'inizio dell'epidemia. Perché vi mostro questi numeri? Perché ogni giorno siamo confrontati con una di queste righe, con un numero nuovo, per esempio questa sera ci sono stati 16.776 nuovi totali positivi, sono aumentati di 16.776 i positivi. A fronte di una crescita di nuovi positivi, persone nuove che si sono presentate e hanno avuto l'analisi positiva, che era di 35.098, ed evidentemente ci sono stati, la differenza tra i due numeri, 35.000 a meno 16.000, circa 19.000 dimissioni e qualche morto purtroppo, 500 morti, quindi 18.500 dimissioni e 500 morti. E la somma di questi numeri fa la variazione totale positiva. Ma guardando questi numeri, la domanda che viene spontanea, ma ci si capisce qualche cosa guardando questi andamenti con i nostri occhi, con la nostra riflessione, con la nostra intuizione, questi numeri che salgono, che crescono e decrescono continuamente. Guardiamo la variazione totale dei positivi. Il primo giorno, 20 giorni fa, circa 13.800, poi 16.700, arriva fino a un massimo di 33.418, 4 giorni fa, per poi scendere. Noi riusciamo a dare un senso a questi numeri? Da dove vengono? Avvengono casualmente? C'è dietro qualche legge che li determina? Bene, la risposta incomincia ad apparire in un grafico come questo. Se io prendo proprio il totale dei positivi attivi in un certo giorno dell'anno e incomincio a graficarlo dall'inizio dell'epidemia, e questa riga, fino ad oggi, è questa riga di colore marroncino, che vedete parte da zero, lo zero è una riga, un'asse orizzontale che corrisponde proprio allo zero, e aumenta pian pianino a raggiungere a un massimo in un momento del tempo, che è circa metà aprile, sulla base, sulla scissa abbiamo i mesi dell'anno, poi comincia a scendere molto lentamente, in luglio-agosto è quasi arrivata allo zero, ma non ha raggiunto lo zero, a settembre cresce leggermente, e poi da ottobre in poi parte e sale a razzo, fino ai numeri degli ultimi giorni, 558 mila all'otto novembre, e oggi che è il 10, siamo a circa 600 mila infetti attivi in Italia. Tenete conto che il massimo della prima ondata, a metà aprile, era a 110 mila infetti attivi, oggi ne abbiamo 600 mila, e stiamo crescendo, e il massimo non è ancora in vista. Allora, cosa possiamo capire da questa curva marroncina? Beh, intanto, questa curva marroncina ci dice qualche cosa di più comprensibile sull'andamento della pandemia, rispetto a quella stringa di numeri che abbiamo visto nella tabella precedente, che andavano, fluttuavano su e giù in modo strano. Qui almeno capiamo che c'è una crescita, una decrescita, poi una ripartenza. Ma dentro questa curva marroncina, i nostri occhi non ci permettono di vederlo, se guardiamo il tasso di crescita giorno per giorno con cui questa curva si muove, sta aumentando o diminuendo, beh, possiamo ricavare la curva azzurrina. E la curva azzurrina ci dice tante cose. Per esempio, ci dice che all'inizio della pandemia, il 25-26 marzo, il tasso di crescita è schizzato alle stelle, era altissimo. Infatti, si è dovuto in pochi giorni, per il 9 marzo, fare il lockdown, perché stava crescendo l'epidemia rapidissima. Ma stava crescendo di fronte a una distribuzione nel tessuto sociale di infetti molto bassa. C'erano poche centinaia di infetti, forse poche decine, qualche centinaio in febbraio in Italia. ma con un ritmo di crescita così vorticoso, vi ricordate in quella fase a nessuno passava per la testa che toccandosi, parlandosi, abbracciandosi, si poteva dare il contagio così facilmente, il contagio saliva rapidissimo. Dopo il lockdown ha iniziato a scendere, la curva azzura scende, 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 incrocia lo zero proprio quando la curva marroncina aggiunge al massimo. Non è un caso, perché al massimo il tasso di crescita, al massimo della curva degli infetti, il tasso di crescita deve per forza diventare negativo. E infatti diventa negativo a maggio, a giugno, a luglio. A luglio comincia a ricrescere. Che cosa è successo fra giugno e luglio? Abbiamo riaperto le regioni. Il 14 giugno, la fine della seconda fase del lockdown, ricomincia la circolazione. E quindi, anche se la curva marroncina continua a decrescere, e vede che continua a scendere, 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 vediamo che il tasso di crescita ricomincia ad avvicinarsi allo zero. e supera lo zero praticamente a fine luglio, primi di agosto. E guardate cosa capita a ferragosto. La curva marroncina a ferragosto non sembra avere niente di particolare da mostrarci. Invece, fra sabato 8 agosto e domenica 16 agosto, che è il periodo di ferragosto, la curva azzurrina è più o meno stabile, ha un certo valore abbastanza basso, di 0.015 giù di lì. Improvvisamente, domenica 16 agosto, in 4-5 giorni, raddoppia, va su rapidissima. Che cosa è successo? Molto semplice. Nel periodo di far agosto c'è stata una grandissima concentrazione di persone nelle località tipicamente balneari, o insomma, quelle delle fede, dove si passano le ferie. Siccome il virus per manifestarsi prende circa 7-8 giorni, fra quando c'è il contagio, i primi sintomi, uno comincia a star male, va dal medico, sono passati 7-8 giorni. è successo che durante il periodo dall'8 al 16 agosto non si sono visti aumenti del tasso di crescita, ma quando è passata quella settimana, improvvisamente il tasso di crescita è salito alle stelle per un periodo, perché è legato a quello che era successo una settimana prima. Se guardiamo la curva marroncina non ce ne accorgiamo, perché la curva marroncina non sembra fare nessun gradino, nessuna cosa strana, ma guardando con la matematica il tasso di crescita vediamo chiaramente che ad agosto c'è stato, a ferro agosto, un fenomeno di massa che ha portato poi a una crescita molto, molto marcata. Arriviamo ai primi di settembre, a settembre il tasso di crescita è sceso continuamente. La curva marroncina stava crescendo, ma si stava incurvando, raggiungendo il massimo perché il tasso di crescita continuava a scendere. Durante il periodo del mese di settembre hanno riaperto le fabbriche, le attività produttive, i ristoranti, tantissime cose, l'economia si è rimessa in moto e il virus ha via via diminuito la sua velocità di crescita. Ottimo segno. Vuol dire che con l'economia un tasso di virus può convivere senza esplodere. Ma nella seconda metà di settembre si sono riaperte le scuole, un po' a scaglioni, ma sostanzialmente a causa delle elezioni del 20-21 settembre anche le scuole che hanno aperto il 14 di settembre hanno perso molti giorni e in qualche modo l'insieme delle scuole sono partite più o meno assieme fra il 23-24 settembre. E a partire dai primi giorni di ottobre e una settimana 8-9 giorni dopo il tasso di crescita è partito a salire, a salire, a salire e per tre settimane consecutive ha salito sempre di più. Cosa è successo alla quantità degli infetti? La curva marrone ha iniziato a impennarsi e a crescere in modo esponenziale perché il tasso di crescita continuava ad aumentare e la curva continuava a crescere. Notate che in settembre il tasso di crescita anche al valore massimo che ha raggiunto di circa 0,8 era molto più basso che nel periodo del lockdown. Ma ciò nonostante la curva marrone si è messa in moto rapidissima. Perché? Perché la velocità con cui gli infetti crescono è l'insieme di due fattori. quant'è il tasso di crescita e quanti sono gli infetti presenti nel campione, nella società. E mentre agli inizi di febbraio, a fine febbraio avevamo poche centinaia di infetti, a fine settembre erano 50.000 nel paese. E 50.000 infetti con un tasso di crescita così relativamente alto ha fatto partire la crescita esponenziale. Vediamo anche un'altra cosa. che in settembre sono stati attivati tre di PCM, uno il 13, in ottobre scusatemi, tre di PCM, uno il 13 ottobre, che ha iniziato a dare degli effetti 10-12 giorni più tardi, uno il 26 ottobre, che ormai è efficace perché, diciamo, sono passati ormai più di 10 giorni, 14 giorni, e uno il 6 novembre, i cui effetti si vedranno a partire dal 15-16 di novembre. Beh, probabilmente questi primi due di PCM hanno contribuito a piegare quella curva blu che ha iniziato a decrescere, quindi il tasso di crescita è ancora positivo, ancora abbastanza alto, ma in diminuzione. Perché la curva marrone continua a crescere anche se il tasso sta decrescendo? Perché è l'esempio del missile, se c'è un missile e c'è un motore con carburante che lo spinge, io lo faccio accelerare e lo spingo molto veloce, improvvisamente spengo i motori, il missile continua a salire ancora per un bel pezzo, dipende quanta è la velocità che gli ho dato, e poi comincia a rallentare, fermarsi e tornare indietro. La stessa cosa accade qui, noi abbiamo dato molta benzina in ottobre al virus e prima di arrivare al massimo ci vorrà del tempo. Ma c'è anche, non sono solo notizie negative quelle che vi do stasera, guardiamo anche questo andamento, il fatto che il virus abbia iniziato a crescere meno rapidamente fa sì che i dati totali degli infetti al 9, quindi a ieri, erano 573.334. Se non avessimo avuto quel rallentamento di cui vi ho mostrato, quel massimo della curva blu che poi ha iniziato a scendere, avremmo oggi o ieri un milione e 300 mila infetti. Vi rendete conto? Più del doppio. Se non avessimo avuto il rallentamento avremmo avuto giornalmente oggi o ieri 120 mila nuovi infetti e non come abbiamo regolarmente osservato negli ultimi giorni 20-25 mila infetti totali in più o 30-35 mila nuovi infetti. quindi è successo qualche cosa, sta accadendo qualche cosa, il virus si sta diffondendo con meno rapidità perché gli effetti di contenimento stanno avendo la loro efficacia. Bene, con tutte le cose che vi ho raccontato voi capirete che la matematica ci aiuta a vedere cosa accade al virus e anche anticipare alcuni processi, alcuni fenomeni. per esempio uno può con questa matematica cercare di capire cosa ci aspetta naturalmente con l'incertezza legata alle estrapolazioni di questo tipo di analisi però se uno prende ad esempio la curva blu che dà il tasso di crescita e assume che continui a scendere in un certo modo vedete che la curva blu l'ho fatta continuare con una retta marrone posso calcolare quanti totali infetti attivi mi aspetto giorno per giorno nei giorni a venire e per esempio in questo modo si può calcolare che a 26 giorni dall'8 novembre quindi stiamo parlando il 4 dicembre raggiungeremo un massimo a circa un milione di infetti attivi questo è un numero che chiaramente ha una sua incertezza però ci permette di capire che siamo sulla buona strada perché se il tasso di crescita continua a diminuire e il dpcm del 6 novembre contribuirà a questo perché pone dei limiti adesso addirittura stiamo parlando di chiusura di altre regioni quindi stiamo avvicinandoci al lockdown speriamo di non fare un lockdown completo però ci stiamo avvicinando è chiaro che questo tipo di meccanismi ridurranno ulteriormente rapidamente il tasso di crescita e quindi magari questo picco massimo si raggiungerà un po' prima e magari con meno infetti queste analisi possono essere fatte anche per altre regioni naturalmente ci sono delle incertezze ma si possono vedere per esempio per l'Emilia Romagna che siccome ha un tasso che un numero di infetti più basso raggiunge il massimo un po' prima e si passa da 37.800 a 53.400 infetti quindi non raddoppia secondo questa stima con gli errori che ci possono essere in Puglia invece il disastro è un po' peggiore perché ci sono molti più infetti a giro e quindi il numero è più vicino al doppio e accadrà fra circa un mese e così via quindi con questi esempi vi ho mostrato quante cose si possono estrarre dai numeri dai dati che ci vengono dati ogni sera se uno utilizza i modelli matematici e un po' di buon senso riesce a vedere in queste serie numeriche molto di più di quello che a prima vista il nostro occhio non allenato non riesce a vedere grazie Roberto grazie per Luigi per l'invito sono molto contento ma non in modo formale di partecipare a questa discussione perché non dovrei dirlo perché è una tragedia quella che stiamo vivendo però dal punto di vista di chi si occupa di storie della medicina e di chi si occupa delle cose soprattutto di cui mi sono occupato io nella mia carriera è anche un momento un po' eccitante effettivamente cioè io sto vedendo delle cose che sono estremamente affascinanti dal punto di vista di come funziona la scienza di come si costruiscono dei piani e si spostano sulle scacchiere tutta una serie di posizioni per cercare ovviamente di realizzare l'obiettivo che tutti ci prefiggiamo che è quello di mettere fine a questa pandemia da questo punto di vista è quello che effettivamente come la matematica i modelli matematici entrati in gioco di fronte a questa pandemia è estremamente interessante estremamente interessante perché sappiamo io l'ho studiato storicamente ma sappiamo insomma che in diversi anni passati sono stati sperimentati usati diversi modelli matematici per provare a governare a gestire anche sanitariamente alcune importanti pandemie influenzali ebole eccetera insomma sono stati fatti addirittura negli anni 70-80 che un po' li ho studiati esperimenti sul campo dove i modelli che venivano realizzati venivano poi studiati per vedere se cambiando diverse condizioni il modello effettivamente risultava predittivo dei risultati a cui si andava e quindi insomma effettivamente questo punto di vista è estremamente interessato e poi Roberto probabilmente l'ha visto io quando sono incappato alcune settimane dopo in un articolo che uscì su Nature Physics di una epidemiologa matematica che diceva ai fisici insomma adesso che voi non potete uscire di casa e che sapete bene la matematica date un po' una mano a mettere su diciamo qualche modellino un po' più sofisticato perché serve il vostro aiuto diciamo di persone che padroneggiano questo strumento anche perché effettivamente in quel momento diciamo ce lo puoi Roberto che se l'ha seguito lo sa meglio di me un po' di caos c'era quando uscirono i modelli di Ferguson dall'Imperial College insomma non è che sono stati anche se Johnson ha subito preso posizione lo ha in qualche modo adottato ha cambiato strategia non è che è stato diciamo preso preso così facilmente insomma gli Stati Uniti sono fatti il loro modello finanziato da Bill Gates da un'altra parte insomma Oxford ha detto no a tutti questi modelli il modello Sir che è stato utilizzando non va usato in questo modo sappiamo noi come si usa e facciamo quindi è una situazione anche dal punto di vista intellettuale insomma della questa è la vera scienza insomma quando gli scienziati competono con le loro idee e poi si confrontano con i fatti e i dati e i fatti e i dati sono secondo me poi il problema vero quindi mi piacerebbe a questo punto anche discutere un po' con Roberto di questo argomento perché nel suo libro lui scrive i modelli compartimentali sono come dei modelli di vestiti che vanno cuciti addosso alla specifica epidemia prendendone le misure e questo solitamente viene fatto no? cioè Ebola è un caso se vogliamo citarlo abbastanza ben studiato ma ne possiamo citerare e prendere le misure di un'epidemia significa sostanzialmente studiare come cambiano giorno dopo giorno alcuni dati fondamentali e lo stiamo vedendo ovviamente perché la calibrazione di un modello cioè l'assignazione di un valore a ogni parametro se fatta correttamente scrive Roberto è importante che i dati rispecchino la realtà dei fatti mi viene in mente quando non so tu forse lo conoscerai nel 1902 Boltzmann scrisse l'Emma modello per l'enciclopedia britannica diceva esattamente queste cose insomma e se si vuole che il modello sia utile uscire dall'epidemia non solo ad analizzarla a posteriore questi dati vanno analizzati in tempo reale ora io penso che appunto ci siano dei paesi delle situazioni della realtà che grosso modo ma non tantissime che grosso modo questa cosa le riescono a fare altre che non che sono un po' in ritardo da questo punto di vista e forse fanno diciamo la recita o la messa alle 18 del pomeriggio esattamente perché l'unica cosa che possono dare sono una serie di dati di cui non sappiamo come sono stati raccolti quanti sono omogenei se appunto stavano lì da qualche giorno piuttosto che invece sono stati appunto presi ed elaborati in quel momento e quindi secondo me il problema è effettivamente e da questo punto di vista direi metodologico epistemologico quanto i modelli matematici applicati alle epidemie oggi riescono effettivamente a come dire catturare o essere in qualche maniera abbastanza vicini alla complessità di un fenomeno epidemico e da questo punto di vista Roberto lo dice più volte nel libro noi abbiamo a che fare con un virus il virus è gestibile grossomodo statisticamente ma poi statisticamente noi abbiamo a che fare con due organismi viventi ognuno dei due ha un programma genetico quindi un ospite che ha un programma genetico quindi geni diversi una storia di vita particolare entra dentro un virus con un'altra caratteristica genetica nel modo in cui loro interagiscono diciamo non è facilmente 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 modalizzabile ecco come si può fare a far sì che comunque cosa che è stata fatta nella fisica molto bene a far sì che anche all'interno dell'epidemiologia e della matematica l'uso dei dati sia un po' più efficiente e adesso cito un'altra cosa cioè tu sei bene lo stai seguendo insomma quando noi diciamo epidemiologia non diciamo una cosa sola perché se tu fai parlare un epidemiologo delle malattie infettive e uno che fa epidemiologia clinica proprio non si parlano sono come due che stanno su pianeti diciamo distantissimi tra di loro e noi l'abbiamo visto questo anche in alcune posizioni dibatti discussioni insomma cioè alcuni epidemiologi effettivi sono arrabbiati con i onnillis perché ha detto ma scusate ma che cavolo mi venite a dire abbiamo fatto l'evidence-based medicine per 30 anni e adesso voi mi applicate delle misure che neanche sappiamo quanto sono efficaci perché non abbiamo randomizzato poi c'è la parola magica per gli epidemiologi la parola magica è randomizzare e se non abbiamo randomizzato noi questa roba qua non la vogliamo neanche vedere ecco a me mi sembra capire come questo tipo di dimensione metodologica ed epistemologica si può provare a farla interagire a farla interagire in qualche modo perché poi alla fine quello che non vogliono capire gli epidemiologi delle malattie effettive gli epidemiologi clinici è che il problema di fondo il discorso che fanno entrambi è sempre lo stesso io ho una teoria che abbia un modello che abbia un'ipotesi e ho delle prove il problema probabilmente è cercare di avere una o dare a queste prove una qualità tale che mi consenta di far funzionare e di mettere in moto più efficacemente questi modelli non lo so tu pensi che voi fisici potete metterli d'accordo diciamo queste queste due anime dell'epidemiologia guarda ti rispondo ti rispondo così come fisico sperimentale per me il dato ha un valore particolarmente importante anche quando contiene degli errori delle sistematicità cioè se mi arrivano 1546 infetti il martedì alle ore 5 no? perché è un numero come un altro il giorno dopo sono 700 di più il giorno prima 300 di meno ci possono essere certamente degli errori ci possono essere delle sistematicità qualcuno si può essere dimenticato ma se io prendo l'insieme di tutte le regioni di tutti i giorni di tutte le situazioni rappresenta comunque una quantità di informazione imponente da cui con un po' di pazienza si può estrarre dell'informazione utile poi se guardiamo bene pensiamo un attimo il comportamento dell'uomo politico in Italia ma anche in altri paesi no? che ovviamente all'inizio chi si occupa della politica non ne vuol sentire del fatto che un'epidemia le leggi dei numeri forzino delle decisioni a un sistema libero democratico in cui si possono fare cose bene perfino il politico ha capito che la mascherina serve che il lockdown abbatte il tasso di crescita che occorre rispettare certi comportamenti qual è il problema? che mentre noi scienziati partiamo dalla letteratura e dai fondamenti e dalle leggi perché siamo abituati a dare fiducia alla scienza senza doverla ogni volta ridimostrare da capo qui siamo purtroppo a livello planetario di fronte a una situazione in cui si sta imparando che esistono dei processi dei scientifici delle leggi scientifiche delle metodologie facendo e rifacendo errori e il costo di questo comportamento è colossale perché se avessimo iniziato a implementare in modo rigoroso certe modalità operative pensiamo alla Cina in modo antidemocratico però in Cina un miliardo e 400 milioni di persone il covid non c'è più hanno riperto Wuhan che è diventata una delle città più attraenti dal punto di vista turistico dell'intera Cina e quando hanno due o tre casi di covid fanno un milione di tamponi e la situazione è risolta in giro di una settimana ecco io penso che la Cina non per esaltare un sistema che chiaramente in queste situazioni è molto pesante e molto duro nei confronti dei suoi cittadini però sta applicando rigorosamente il processo scientifico e batte il virus con le sue armi noi invece lo stiamo cercando di combattere diciamo imparando per la strada quanto è spietato il suo comportamento e ripeto questo non è un modo saggio di procedere guardate che quello che sto dicendo non è niente di particolarmente rivoluzionario ci sono almeno due persone nel mondo che usano esattamente lo stesso metodologia uno è Fauci d'America che sa che cos'è un modello epidemiologico consiglia le persone non le formule di matematica ma comportamenti perché giustamente deve comunicare ma lui sa perfettamente quali sono le leggi del virus e poi c'è una persona come la in Germania la Merkel che lei capisce quali sono le implicazioni delle leggi del virus e quando agisce con i suoi collaboratori con i suoi ministri capisce quello che gli stanno dicendo e non è forse un caso che la Germania che sta combattendo la stessa battaglia della Francia dell'Italia della Spagna complessivamente se la stia passando un po' meglio perché c'è un maggiore rispetto per le cose che si sa essere vere prima di doverle ridimostrare col costo sociale che stiamo facendo in altri paesi Italia inclusa ma un commento una domanda il commento è nei Fauci nella Merkel propongono misure cinesi e se con noi non non ci mettiamo anche nell'ottica che la mentalità e la cultura asiatica come è stata studiata da molti antropologi psicologi sociali è diversa della cultura occidentale facciamo un po' fatica secondo me a gestire queste situazioni complesse in occidente perché comunque di là avremo diciamo conformismo d'obbedienza che viene in qualche modo innestata con l'educazione nella famiglia eccetera da questa parte abbiamo invece la spinta che facciamo tutti noi i nostri figli a essere intraprendenti a pensare con la loro testa e cose di questo genere quindi siamo proprio in due mondi diversi per cui se noi vogliamo mettere sotto controllo dei figli intraprendenti gli dobbiamo mettere i poliziotti davanti a casa cosa che in questo momento i cinesi qualche volta lo fanno qualche volta no insomma possono scegliere la situazione ma la domanda che voglio fare quindi secondo me è vero però dobbiamo capire come hanno appunto dimostrato psicologi sociali e antropologi che le epidemie i disastri le emergenze a seconda delle ecologie sociali nelle quali accadono poi le puoi gestire politicamente o le vengono gestite politicamente ma domanda allora che ti faccio perché io ho seguito un po' dall'inizio tutta quanta ho scritto anche qualche cosa su questo argomento ma per esempio la Svezia ha preso un'altra strada ora punto primo gli epidemiologi svedesi come io ho avuto modo anche di parlare con uno di loro di interagire con uno di loro non sono secondi quasi a nessuno perché hanno avuto delle epidemie pazzesche durante il novecento e hanno tirato su una scuola di epidemiologia abbastanza efficiente loro sono riusciti a gestire una situazione che è che 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 poi alla fine ha anche prodotto qualche tipo di come dire conseguenze che probabilmente non si aspettavano non possiamo neanche dire come qualcuno ha detto ah ma sono quattro gatti beh insomma Stoccolma c'ha 950.000 abitanti insomma che sono 200.000 250.000 più di Torino quindi come cioè come vediamo poi alla fine la possibilità di come dire usare lo scenario epidemiologico in diversi contesti economici politici e anche dove i sistemi sanitari e la sanità pubblica è pensata razionalmente in modi completamente diversi guarda più volte mi sono trovato a discutere con dei colleghi di altri paesi e ho pensato che poteva forse essere il caso di studiare con gli stessi strumenti matematici la situazione di altri paesi perché certamente come dicevo anche e tu ricordavi è un fistito cucito da un sarto e la stessa modellistica si applica diversamente nei vari sistemi sociali però poi mi sono reso conto che è un lavoro molto complesso devi conoscerlo bene il tuo sistema per estrarre qualche informazione utile per cui mi sono poi concentrato sempre solo su quello italiano bene però su quello italiano alcune cose vengono a galla e fanno riflettere cioè il lockdown ha funzionato molto bene eccezionalmente bene poi ci siamo abbiamo deciso di riaprire perché la pressione sociale economica era fortissima prima che si fosse esaurito in tutte le regioni se uno va a vedere alla riapertura rispetto ai 110.000 infetti attivi del massimo c'erano 12.000 infetti attivi residui che stavano scendendo come vi ho mostrato e si è aperto lo stesso io ho pensato sicuramente sarà un disastro perché se il virus riesce a svilupparsi in poche unità in poche decine figuriamoci e invece avevo torto perché fino a Ferragosto ha continuato a scendere ma più di così dopo il picco di Ferragosto che è voluto dire milioni di persone che sono andate a riunirsi con i parenti al mare e quant'altro in settembre l'Italia del lavoro l'Italia operativa l'Italia delle imprese ha iniziato a funzionare e il virus che era arrivato a un certo tasso e a certi valori agli inizi di settembre probabilmente eravamo ancora lì sui 15-15.000 casi stava crescendo molto lentamente stava raggiungendo un massimo e se le condizioni fossero continuate ad essere le stesse probabilmente sarebbe via via sceso e quindi la dimostrazione italiana noi stiamo dimostrando nei fatti una cosa apparentemente sorprendente che i cinesi non avevano mai accettato che un paese di 60 milioni e passa di persone quali siamo noi con le nostre abitudini e tutto questo e quest'altro può sostenere un'economia non a pieno ritmo con molto smart working per carità ma che permette al paese di riprendere a funzionare dove invece abbiamo completamente sbagliato è nel non capire che la scuola non è solo quello che capita durante le 4-5 ore di scuola ma è il muovere 8-9 milioni di persone quasi tutti giovani giovanissimi in contesti in cui i trasporti i comportamenti sociali gli assembramenti le feste tornare a casa tutte le cose collegate ad esse avevano un'importanza probabilmente maggiore di quello che accade a scuola io non voglio neanche entrare se le rotelle se la distanziamento era quello giusto le mascherine è troppo complicato quello che ormai è sicuro è che nessuno in Italia voleva denunciare fino a fine ottobre fino al 20 ottobre nessuno parlava di questo quando i numeri stavano diventando delle cose stellari e questo è molto grave o tutti quanti avevamo del lardo sugli occhi oppure c'era un interesse a non parlarne io non so ma non ci sono alternative e in tutto quel periodo abbiamo completamente sbagliato l'interpretazione del dato che ci stava di fronte e questo è molto grave perché i numeri vengono davanti ai nostri occhi allora il punto qual è abbiamo capito ma lo stiamo pagando molto caro questo fatto che l'Italia può con un lockdown riportare a zero un'epidemia molto intensa sì ma blocca l'economia blocca tutto blocca anche la scuola abbiamo dimostrato nei fatti che possiamo sopravvivere con un sistema produttivo che funziona a metà o dei tre quarti della sua velocità con un virus ancora presente nella società non era banale questo fatto ma i dati lo stanno dimostrando e abbiamo confermato una cosa che ci avevano detto tutti quanti gli altri che si erano occupati di questo problema ben prima di settembre che riaprire le scuole in un contesto in cui tu non controlli con grande precisione il virus in tutte le sue declinazioni dei rapporti della giornata specie fra i giovani a riaprire in quelle condizioni un suicidio e questo l'abbiamo completamente cannato perché c'era troppa ideologia c'era troppa ignoranza e mi fermo così per cui alla fine abbiamo una situazione molto complessa perché alcune cose possono funzionare purché non siamo a 800-900 mila infetti attivi come ci stiamo incamminando oggi quindi è chiaro che in queste condizioni dobbiamo fare qualche settimana di lockdown per raffreddare il sistema però la scuola come tutti quanti desidereremo fosse fatta in presenza ha un costo organizzativo diciamo quindi epidemiologico molto alto e molto preciso e non possiamo permetterci di farlo così in modo superficiale e quindi in qualche modo terzo capitolo dovremmo riaprire la scuola e tutto ciò che la circonda in condizioni di molto maggiore controllo ma non possiamo continuare a sbagliare clamorosamente pagare valori enormi in vite umane in sforzo in costo in valori economici per imparare delle cose che in buona parte probabilmente avremmo potuto ricavare dai libri di epidemiologia statistica e dai modelli di epidemiologia matematica sì però Roberto se posso visto che siamo qui quindi eventualmente è bene che esprimiamo anche i punti dove la pensiamo diversamente allora è vero gli argomenti che tu metti su un piano scientifico scientifico sono validi io non so chi è che ha pensato di insistere sulla scuola so che la Francia pur con dei numeri positivi molto molto più alti dei nostri non ne vuole sapere di chiudere la scuola so che molti paesi non vuole sapere di chiudere la scuola io non so chi l'ha pensato però io so che se tu vai a vedere l'impatto che ha avuto la chiusura delle scuole durante la spagnola del 1918 le corti di quegli anni hanno perso degli annualità di scolarizzazione molto elevate e c'è stato un calo netto di di diciamo di capacità di reddito diciamo che poi sono andati ad ottenere quelle 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 persone quando sono entrate nell'ambito lavorativo io qui è un problema anche di trovare un equilibrio perché il problema è che noi abbiamo un virus che fino a quando non abbiamo lascia stare i vaccini gli anticorpi monoclonali veri perché se noi ci aspettiamo il vaccino ci vogliono due anni prima di uscire da questa storia allora se arrivano gli anticorpi monoclonali veri che salvano la vita ai malati e non li fanno entrare in terapia intensiva noi con questa roba qua in alcuni mesi insomma la mettiamo sotto controllo però noi non possiamo pensare comunque con un virus che nell'80% dei casi praticamente è asintomatico o pauccio sintomatico il 15% ha una ha una semi influenza e il 5% finisce in terapia intensiva o rischi della vita non possiamo comunque nemmeno pensare di dall'altra parte buttare via un sistema economico sociale di diritti di istituzioni eccetera che sta sta venendo che viene messo fortemente sotto pressione e io penso che chi sarà messo nelle storie delle epidemie delle pandemie ci insegnano più sotto pressione non siamo noi adulti non sono io che mi scivola sopra grossomodo magari posso rischiare la vita perché ho una certa età ma questa pandemia non fa nulla ma sono i giovani sono proprio coloro che nella fase formativa rischiano di perdere delle esperienze educative che sono fondamentali per poi stabilizzarli e dargli una dritta quando diciamo dovranno ricostruire o dovranno rimettere in moto l'economia quindi noi è un tema è un tema è un tema importante però io di fronte all'ignoto perché quello che sta accadendo oggi per tutti noi rappresenta una cosa imprevedibile imprevista per dimensioni per intensità per durata credo che occorra essere molto pragmatici purtroppo l'esperimento l'abbiamo fatto in Italia abbiamo riaperto il sistema scolastico ripeto non voglio mettere il punto sulla scuola in quanto edificio ma in un contesto di infrastrutture che non erano adeguate cosa è successo in meno di un mese siamo andati in ginocchio e probabilmente rimarremo adesso non voglio fare il profeta di sventura ma rimarremo in questa condizione per almeno un mese e mezzo forse due se tutto ci va bene raggiungiamo quel milione di infetti attivi e poi per Natale Capodanno potremo forse ricominciare a parlare di riapertura un esperimento come questo si fa una volta sola e se tu potessi evitarlo lo eviteresti perché gli effetti complessivi sono tantissimi e ti mandano in tilt il sistema allora o tu incominci a dire separiamo i giovani del resto quindi le persone io e te e tutti la nostra corte se ne sta a casa fare teleconferenze la sera e guardare i film ci separiamo fisicamente dai ragazzi e loro hanno la loro vita non funziona perché la società è un misto di continui rapporti fra generazioni diverse quindi la separazione è impensabile allora occorre essere funzionare così non funziona separare la società non si può separare cerchiamo di essere pragmatici ti porto un esempio che mi ha fatto molto riflettere un intervento alla radio di una ragazza proprio sul tema della scuola che diceva io vengo dal centro Italia e ho subito gli effetti del grande terremoto di qualche anno fa per più di un anno e mezzo due anni siamo rimasti a fare le scuole nei container abbiamo perso mesi e mesi di scuola io poi nel periodo successivo ho recuperato ho fatto l'università adesso lavoro allora voglio dire cerchiamo di dare il giusto peso a tutti gli aspetti della situazione noi non possiamo avere gli ospedali in terapia intensiva pieni di gente che muore non lo possiamo fare 500 morti al giorno come è successo oggi non lo teniamo per mesi e mesi e mesi lo sappiamo perfettamente le barre che vengono parate via dai militari da Bergamo non lo possiamo rendere lo sfondo quotidiano della nostra attività e se continuassimo in questo modo lo diventerebbe per un periodo molto lungo non c'è verso di arrivare sulla immunità di gregge senza eliminare milioni di persone d'accordo? quindi dobbiamo essere molto pragmatici e meno ideologici è una sorta di guerra quando c'è stata noi siamo una generazione risparmiata dalla guerra e poi il nemico ce lo siamo trovato in casa questo virus ce lo siamo trovato in casa è imprevedibile è una sorta di bombardamento non so come descriverlo in altro modo ma dobbiamo renderci conto che siamo in una condizione che è passata nei tempi passati provocava gli effetti che provocava una guerra e quindi dobbiamo affrontarla con estrema determinazione non impulsivamente discutendone riflettendone però non possiamo fare in modo che il tempo passi discutendo dobbiamo prendere delle decisioni e veramente bilanciare per esempio io sento adesso dire ad alcuni Adice voi mettete sullo stesso piatto la salute e la formazione francamente io faccio fatica a pensare che possono essere confrontate la salute e l'educazione verbene che riguardano età diverse ma io penso che per essere educato devi anche essere in buona salute e fino alla fine prova contraria io nessuno sa ancora dirci gli effetti di questa malattia sui paucisintomatici a milioni o su quelli che escono all'ospedale distrutti quali siano socialmente ma vengono messi in cattiva vengono portati in condizioni estreme i cinquantenni quando la cosa colpisce milioni di persone riguarda un po' tutti e quindi io chiamo in causa una grande pragmatismo e meno in Italia scusa scusa Roberto ma se si fosse trattato di essere pragmatici io mi sarei aspettato cosa che è stata fatta da quando esiste da quando si sa che le malattie effettive sono trasmette da microrganismi mi sarei aspettato una campagna in questo paese capillare di propaganda attraverso la distribuzione di volantini di materiali fatta casa per casa trasmissioni a rete unificate dove parla Piero Angela non il primo ministro o 24 scienziati che dicono ognuno una cosa diversa e ci si capisce niente io figuriamoci la popolazione che dice cosa fare individualmente attraverso dei singoli comportamenti responsabili cioè questo è anche un modo in questo paese per essere pragmatici e fare in modo che i cittadini attraverso una minaccia come questa imparino qualche cosa dalle conoscenze scientifiche eccetera eccetera perché altrimenti voglio dire a furia di dpcm svuotiamo i parlamenti capisci che ce ne facciamo dei parlamenti in questo momento non ci servirebbe neanche allora io non vorrei appunto io non metto la salute contro la formazione però penso che diciamo non si sta facendo nemmeno tutto quello che si potrebbe fare per garantire la salute perché le cosiddette misure non farmacologiche non è che cioè le misure non farmacologiche cosa si basano sull'azione degli individui il distanziamento fisico è perché io non mi avvicino a un altro la mascherina è perché io me la metto quindi sono comportamenti individuali non sono come dire leggi norme eccetera che tu puoi stabilire e quelle automaticamente si trasformano devi comunicare questo secondo me per esempio in Italia ma ho visto anche in diversi altri paesi non è assolutamente stato fatto sembra che tutti abbiano internet ma chi te lo dice che tutti hanno internet ma sembra che tutti guardano la televisione e si abbeverano di quello che devono fare attraverso la televisione ma in una stessa trasmissione come ti dicevo escono fuori quattro messaggi diversi e gli scienziati che li dicono tra di loro quindi insomma noi manchiamo un po' di come dire se la Francia decide e lo fa secondo me anche perché ha questa idea della grandeur mettiamoci tutto quello che vogliamo eccetera però se decide di tenere aperte le scuole lo fa anche perché un po' tutti oggi tu mi hai detto che ci sono degli scioperi quindi probabilmente le cose stanno evolvendo diversamente ma perché a un certo punto vogliono dare un messaggio che la nazione è lì e sta ferma e continuerà a esistere anche quando il virus sarà passato io non ho questa percezione del nostro paese che ci saremo ancora scusa adesso faccio una battuta quando il virus sarà passato ecco io questo non lo so io mi auguro che il paese ci siamo anche noi ricordo per chi ci sta ascoltando che sembra appunto così l'ha preso almeno da alcuni riferimenti che la Francia oggi abbia uno sciopero della scuola contro le politiche contro la gestione del governo che insiste nel tenere aperta la scuola ma evidentemente con degli strumenti con un contesto un'infrastruttura che probabilmente mostra gli stessi limiti anzi voglio fare proprio un'affermazione un pochino forte come mai Italia Spagna Francia Germania Inghilterra tutte quante queste nazioni le altre europee non le cito ma potrei continuare hanno avuto questa crescita esponenziale violentissima proprio fra settembre e ottobre non mi chiamate in causa la temperatura l'influenza non c'entrano niente qui è aumentato di un fattore 5 6 7 il ritmo di crescita guarda caso nella vicinanza del fine settembre inizio ottobre che è collegato fortemente alla riapertura chiaramente i vari paesi hanno qualche data un po' diversa sta a vedere dico io che a livello europeo questo è un problema di difficoltà della gestione fatemelo dire in modo più ampio della componente giovane della società che si esprime con maggiore efficacia quando riaprono le scuole del resto è quello che molti di noi lo pensano e se parli con i giovani non è non è infrequente la posizione che dice ma insomma a me il virus a noi il virus non ci fa un baffo al massimo qualche colpo di tosse il virus colpisce altre parti della popolazione per cui convincere i ragazzi a rispettare questi comportamenti di distanziamento sociale è difficile perché se io fossi uno di loro probabilmente mi sentirei protetto allora la domanda che ti faccio è questa ma se fosse proprio questo il punto che sta facendo esplodere l'Europa non l'Italia che si stiamo intestardendo nel fare una cosa senza aver ben calcolato gli strumenti e i mezzi dove per strumenti e mezzi comprendiamo anche il comportamento delle giovani generazioni beh questa è una responsabilità che noi nel senso le persone chiamate a gestire il paese o influenzarne con il loro pensiero le decisioni dovremmo far venire a galla perché apparentemente è un problema complesso di cui non si è trovato il bandolo della matassa ma che apparentemente colpisce tutti i paesi europei e non solo ma mi limito a quelli europei perché non affrontiamo in questo senso a me il confronto che dice che la Francia tiene aperte le scuole perché vuole dimostrare che il paese è lì e sta in piedi mi fa ridere perché sembra il discorso degli interventisti andiamo in guerra perché occorre combattere a me non me ne frega niente di questo a me interessa capire se aprire la scuola in certe condizioni permette all'intero paese di andare avanti o se invece ci porta in un mese a essere in ginocchio questo è il problema da affrontare ma scusa ma qualcuno sulla chat mi ha dato dell'ideologico non del pratico io credo che i valori siano sostanza che non sono ideologia cioè è che pensare che un paese deve cercare diciamo di mantenere ferme i dritti i principi costituzionali che lo caratterizzano sia qualche cosa che deve comunque fare il possibile per 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 difendere da questo punto di vista io voglio dire allora intanto io non sono un matematico non sono un scienziato io guardo dal punto di vista io ho studiato per motivi diciamo legati alla mia alla mia alla mia vicenda la storia di questo paese dal punto di vista di diverse epidemie e pandemie e nel 57 sono morti molte più persone di quanti sono morti fino ad oggi di influenza asiatica e nessuno sostanzialmente se ne è accorto non parliamo della spagnola durante le pandemie le epidemie le popolazioni reagiscono in un certo modo non ci sono messaggi razionali che si possono dare l'unico messaggio che si può dare efficace è quello basato sulla fiducia ti fidi del tuo governo e dei tuoi governanti punto gli svedesi si fidano noi non ci fidiamo punto allora evidentemente i francesi si fidano del loro governo se poi fanno quello che fanno quindi in questi contesti la credibilità la rispettabilità e appunto la fiducia che si costruisce tra governanti e cittadini non sudditi è qualcosa di diciamo di cruciale dopodiché voglio dire certo in questo momento tu puoi dire sì a me pragmaticamente interessa controllare questa situazione ma se questa situazione va avanti per due anni tu continui ad andare avanti per due anni a bloccare il paese a portare il virus a livello 0,1 e poi appena riapri questo riparte e poi ritorna anche perché noi non dobbiamo dimenticarci che una cosa che in questi modelli ancora non riuscite a metterci è quanto dura l'immunità però non lo sapere Roberto non caricare un po' il modello matematico di proprietà taumaturgiche che non può avere guarda la matematica come sai meglio di me è una lezione di buonsenso e di razionalità né più né meno e ti aiuta nell'applicare al problema specifico un ragionamento invece piuttosto che un'intuizione o delle idee Roberto ma se noi sapessimo che l'immunità verso questo virus è la stessa che abbiamo avuto verso il vaiolo il vaccino ci risolve tutti i problemi e quindi noi lo mettiamo dentro del modello Gilberto il problema che noi abbiamo adesso come tu sai che questa sera cinque regioni diventano arancioni e non so se domani o quanto sarà ne diventeranno tante altre rosse e torniamo al lockdown il lockdown è peggio che avere la scuola a distanza la scuola a distanza io faccio l'università e i miei studenti sono contenti anzi hanno fatto delle statistiche in cui viene a gala che l'insegnamento a distanza mediamente soddisfa lo studente per carità ma anche il rapporto con gli altri studenti verissimo ma dal punto di vista formativo universitario l'insegnamento a distanza dandoti le dispense la registrazione ti aiuta molto io suggerirei un'altra cosa che è rivoluzionaria che invece che far parlare gli adulti della scuola a distanza nelle superiori o nelle medie facciamo una bella statistica presso i ragazzi nessuno ha mai chiesto l'opinione ai ragazzi sopra i 16 anni spero sopra i 16 anni spero perché sotto mi rifiuto mi chiede cosa pensano si può stesso chiedere mia moglie che insegna alle superiori ha chiesto alla sua classe alle sue classi un'opinione e qualcuno diceva che era peggio qualcuno diceva che era meglio la maggior parte ha avuto una posizione neutra allora tutto questo per sdrammatizzare questo dibattito sull'insegnamento in presenza l'alternativa non è smettere di studiare è avere un periodo di insegnamento a distanza non è diventare ignoranti e uscire dal sistema della formazione o dell'altra formazione è per un periodo affrontare un momento di maggior difficoltà verissimo che manca internet che mancano i computer quanti ragazzi utilizzano i telefonini ma se l'alternativa è fare il lockdown totale per altri due mesi ma ti rendi conto? alla fine è di questo che stiamo parlando se c'è da fare il lockdown io sono d'accordo per fare il lockdown però il problema è che non dobbiamo dimenticare quelli che stanno perché noi qualcuno ha scritto che tutti hanno facebook non è assolutamente vero che in questo paese tutti hanno facebook e le persone diciamo che sono più marginali economicamente esattamente quelle di cui ci dovremmo preoccupare visto che predichiamo l'eguaglianza in un lockdown sono quelle che poi pagheranno maggiormente il prezzo quindi se già l'ascensore sociale in questo paese si è rotto da vent'anni dopo diciamo quello che accadrà con questa pandemia possiamo decidere che per un secolo non si mette più in moto non lo ripara più nessuno e io spero insomma che non si faccia questo però io ritengo che ci sono dei parametri stabiliti io sono per le leggi chiare trasparenti che si rispettano decidiamo di andare verso il lockdown andiamo verso il lockdown però nelle discussioni non mettiamo secondo me sotto il tappeto una serie di problemi che poi ci ritroveremo che potranno diciamo eventualmente aggravare la situazione mentre invece potremmo lavorare molto di più su altri piani comunicazione o sul piano sanitario per evitare che gli ospedali diciamo si intasino io non capisco perché gli ospedali tra l'altro si devono intasare in questa maniera quando noi dovremmo avere il secondo terzo sistema sanitario più efficiente d'Europa del mondo scusate del mondo noi abbiamo il sistema migliore ma non più efficiente si migliore hai ragione scusa hai ragione migliore il costo calcolato sull'aspettativa di vita basta nel senso se tu vai in ospedale anche in questo periodo hai del personale che fa le cose in modo molto attento prendendo il tempo le condizioni il fatto che il carico che ciascun infetto mette sui pronti soccorsi e sulle prime accettazioni sta diventando esorbitante in un contesto in cui mancano i medici tutte le cose che ben sappiamo adesso non le devo ripetere tra l'altro i medici di medicina generale se permette li abbiamo uccisi sai per rispondere un po' a quello che tu dicevi la discussione delle idee è la base della democrazia però per discutere occorre star bene ed essere vivi e quindi qua noi dobbiamo poter discutere di queste cose assicurandoci che non torniamo nel lockdown ogni sei mesi per i prossimi due anni perché altrimenti siamo veramente messi male non so se vogliamo quanto tempo abbiamo regia ci sono parecchi messaggi che sono passati come commenti come funziona adesso ecco buonasera quando arriverà il vaccino ci sarà una soglia percentuale di sommanistrazioni da dover raggiungere per poter considerare l'intera popolazione immune questa è una domanda per te no no vabbè ma la sai anche tu cioè esistono delle 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 soglie sopra le quali si deve stare con le con le con l'immunità perché il tasso di riproduttore dell'infezione diciamo non possa non possa in qualche modo ripartire quindi si stima che per questo virus anche se non si hanno dei dati molto precisi perché a seconda appunto dei modelli e dei dati il cosiddetto R nato R con zero si fluttuo un po' però si stima che il 70 75% della popolazione dovrebbe essere vaccinata per riuscire a proteggere tutta per avere l'immunità di greggia e proteggere tutta la popolazione ti risulta anche a te Roberto? Ma adesso il numero c'è una c'è un'equazione che che dà la frazione di percentuale la percentuale di non vaccinati che possono essere mantenuti in un contesto di immunità di greggia mi pare che sia un pochino più bassa del 25% però se sarà il 15% o il 10% non lo so devo dire la verità che questa cosa dell'immunità di greggia che ha colpito molto la fantasia specialmente delle persone perché possono immaginare che se si arriva in quelle condizioni il problema si risolve senza aver fatto niente ma che però per arrivare in quelle condizioni o con il vaccino la cui durata ancora non sappiamo quanto sarà quante volte dobbiamo rifarlo oppure passando per la strada dolorosa della diffusione libera della malattia diciamo a dei costi molto elevati in un caso come nell'altro mi sembra quella dell'immunità di greggia è più una cosa accademica che una cosa completamente realizzabile nessuno sostiene per esempio che l'influenza stagionale si batte con l'immunità di greggia non ha detto mai nessuno è comparso per la prima volta questo concetto con questo tipo di pandemia come un esercizio in qualche modo accademico la risposta vera sono i vaccini oppure cercare dei comportamenti che non ci espongono a quel tipo di problema è chiaro che se io d'inverno in un periodo in cui c'è l'influenza in giro vi faccio il bagno nel fiume e sto prendendo il freddo me la becco molto più facilmente se invece faccio una vita diversa quindi purtroppo la risposta alla domanda della persona che ha fatto la domanda è che è il vaccino sommato a dei comportamenti diciamo adeguati purtroppo non c'è un'alternativa a questo è probabilmente sommato a una cura cioè a un anticorpo monoclonale che blocchi l'azione patogena del virus e quindi una persona che è sintomatica e che avanza verso la gravità si prende questi vaccini questi anticorpi monoclonali che non saranno quelli dati a Trump ma aspicabilmente saranno un po' più efficaci questi anticorpi monoclonali e si guarisce perché il problema oggi è appunto che per questo malattia non c'è una cura assolutamente vero questo Pierluigi che ci dici il microfono il microfono è ancora spento eccoci qua benissimo avete anche contraddetto la legge della curva dell'attenzione perché in generale si dice che dopo i 40 minuti l'attenzione cala in realtà a partire dal trentacinquesimo minuto si sono moltiplicate le domande le valutazioni le riflessioni di natura diversa ma sono comunque il segnale dell'attenzione che vi è stata per questa vostra presentazione d'altra parte questa attenzione conferma a mio modo di vedere il bisogno che c'è in mezzo dei cittadini di questo tipo di conoscenze cioè di favorire riflessioni discussioni che partano da non solo da elementi concreti ma da modi modelli di interpretazione che abbiano una solita bassa scientifica e questo forse è il messaggio la filosofia che dobbiamo introdurre nella stessa qualità della didattica verso i giovani dunque io vi ringrazio ovviamente non abbiamo sufficienti esperienze per poter dire che la didattica a distanza è sbagliata che la didattica a distanza va benissimo credo che la didattica a distanza sia una modalità di fare attività didattica noi abbiamo tutti noi delle esperienze io ne ho circa 35-36 di didattica nelle scuole medie e superiori non avevamo mai avuto l'occasione di poter fare didattica a distanza però vedo che in altre esperienze tipo quella di festa di scienza e di filosofia che voi conoscete quando abbiamo varato un progetto che si chiama ambasciatori di festa di scienza e di filosofia mi sembra che entrambi siete stati interpellati dai ragazzi o che ai ragazzi vi hanno sottoposto delle domande cioè c'è stata una forte partecipazione dei ragazzi stessi io non credo che nella didattica ci sia una uniformità di di formule cioè che c'è una formula sacrosanta che sia intoccabile credo che oggi con gli strumenti dobbiamo mettere insieme questi modi di fare scuola questo come prospettiva di lungo periodo oggi abbiamo il problema di fare in modo che mettere insieme la scuola il diritto dei ragazzi ad andare a scuola con la pandemia è un problema da prendere con le molle e le curve di Roberto e le riflessioni di Gilberto credo possano aiutarci io termino chiedendovi di venirci ringraziandovi ovviamente perché avete aiutato a mantenere questo rapporto di festa di scienza e di filosofia con il suo pubblico e soprattutto avete consentito che un pubblico vasto abbia potuto riflettere su questioni concreti e con strumenti diciamo così propri della riflessione scientifica vi ringrazio quindi nuovamente spero che possiate venire alla prossima edizione di festa di scienza e di filosofia e continuare questo confronto diciamo in un dialogo anche concreto oppure nell'ambito delle vostre rispettive conferenze verso il pubblico vi chiederei soprattutto perché dopo andremo a cena dopo andremo a cena ma ci recupereremo alla prima occasione utile alla prima occasione e sperando di poterla fare festa di scienza e filosofia ma credo che o in presenza o diciamo così in forma mista o a distanza qualche cosa di valido dobbiamo fare per continuare per l'apporto di cui parlavo prima io vorrei farvi un'ulteriore proposta che parte dal nucleo delle vostre riflessioni che è costituito in sostanza dal ruolo della scuola dalle politiche verso la scuola dal peso che la scuola ha o non ha all'interno dello sviluppo della pandemia cioè noi vorremmo costruire con le personalità del mondo della scienza della filosofia e della cultura italiana una sorta di bagaglio di argomenti bagaglio di contenuti cioè proporre attraverso incontri di questo tipo ma fatti con di mattino con le scuole italiane un bagaglio di conoscenze di base minima che ognuno che si avvicina alla vita di conoscenze scientifiche di base minima che ognuno che si avvicina alla vita deve possedere qualunque sia il suo lavoro come base di partenza sia se andrà a fare l'artigiano sia se andrà a fare il professore di fisica o di matematica dove svilupperà successivamente conoscenze più alte sia se farà come è brillantemente fa il professor Corbellini lo storico cioè in modo tale che ci sia anche una base culturale scientifica di base uniforme per le scuole italiane adesso io non sto a ricordare i risultati di Ox e Pisa però anche quei risultati dicono di quanto ci sia necessità di fare questo quindi grazie permettetemi di presentare la prossima conferenza che si terrà il giorno 17 di questo mese ed è la presentazione del libro di Massimo Capaccioli professore merito dell'Università Federico II di Napoli il libro è intitolato L'incanto di Urania 25 secoli di esplorazione del cielo il professor Capaccioli è stato anche direttore dell'osservatorio astronomico di Capodimonte e proprio la nuova direttrice dell'osservatorio astronomico di Capodimonte aiuterà il professor Capaccioli nella presentazione del suo libro è la dottoressa Marcella Marconi molto giovane e quindi credo sia un ulteriore momento di incontro molto positivo fra la scienza con i suoi rappresentanti con i suoi protagonisti e il pubblico che segue festa di scienza e filosofia di nuovo grazie buonasera e buonanotte grazie a tutti grazie ciao